Giovedì 5 marzo ci troviamo all'Oano per il workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editor in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Savona. Si parla di Contract e di Interior Design, la nuova sfida per la riqualificazione sostenibile di hotel e resort, ma abbiamo parlato anche di tanti altri temi, vediamo i contributi che abbiamo raccolto. Il tema della giornata è la riqualificazione degli alberghi, dei resort e del wellness dal punto di vista sia della sostenibilità sia del risparmio energetico. Devo dire che oggi la platea degli architetti ha risposto in maniera molto numerosa come spesso accade e abbiamo anche la presenza oltre delle aziende partner con nuove tecnologie, anche di studi di livello internazionale, studi di architettura di livello internazionale che presenteranno delle case history di progettazione e di realizzazione molto importanti. Come sempre lo svolgimento del convegno si sviluppa attraverso delle tavole rotonde scientifiche e attraverso delle tavole rotonde dove le aziende e partner possono presentare le nuove soluzioni tecnologiche. Un dibattito molto acceso ha visto una grande partecipazione degli architetti e un tema sicuramente di interesse anche perché la legislazione ligure premia oggi il tema della riqualificazione degli alberghi e quindi sicuramente un tema di grande interesse. Diciamo che la crisi ha riportato in auge il motto di uniamo le forze perché sia a livello di studi di progettazione sia a livello delle singole imprese il fatto di riuscire a fare rete sia rete di impresa ma anche rete tra singoli professionisti con competenze diversificate che si mettono insieme per offrire al mercato un servizio globale abbiamo visto che è sicuramente una nuova sfida del futuro. Grazie per la visione!